Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Locente Nello scorso video dopo essermi fatto tutta quanta la grotta labirinto e aver confuso Matilde con Risetta Mi dispiace Matilde ma Risetta è... Risetta, mi ricordavo Risetta che poi la incontriamo dall'altra parte Siamo arrivati a Quoripoli e a Quoripoli c'è un fantastiliardo di cose da fare Stavo per dire un'altra parola Ma non perdiamo tempo e ragazzi la prima cosa da fare oggi è Parco Concordia Passeggia con i tuoi Pokémon, andiamo, andiamo a Parco Concordia Perché poi andare a Parco Concordia è importante se si vuole sbloccare la passeggiata con i Pokémon E quindi creare un legame ancora più forte con i proprio Pokémon Una volta a Parco Concordia potevi portare solo un certo numero di Pokémon Qui il numero è aumentato se non sbaglio ma è più o meno quello Sempre gli stessi, non è che puoi fare tanto diversamente Nel Parco Concordia puoi fare una passeggiata con un Pokémon grazioso Con poi le Pokémon desideri passeggiare Ecco Vux che è bellissimo È un leone Non è ammesso Mi dispiace Vux Però gli starter Gli starter tutti Andiamo ovviamente con Baneri Gli altri escono dalla Pokéball Quelli possibili da far passeggiare Un uovo non puoi portarlo a passeggio E se me lo metto sotto braccio E vado con l'uovo a passeggio posso signorina? Eh? Oggi mi girano un po' i cosiddetti Quindi sono un po' polemico Va bene? Bene, gli altri Pokémon possono andare a giocare nel parco Ci vediamo all'ora del pranzo Non scappate Grotol Grotol è l'unico che sente Grotol è l'unico che sente Grotol è andato a passeggiate I Pokémon nel parco ti aspettano I Pokémon ti aspettano nel parco Baneri 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 Sei lento Baneri Perché sei lento? Oh Dengazzao È irritato Ah perché la chiamavo Baneri e non Mint Attenzione Attenzione C'è Grotol Mi vuoi bene? Oh anche io ti voglio bene Ah la consistenza del terreno Allora vai a quel paese No scherzo Grotol no Ah cos'è che ti irrita? Il cervello ti irrita Allora Clefairy Dovresti parlare di Pokémon? Eh sì È vero A volte trovano cose Ma che vuole quello? Chi lo vuole? Non voglio parlare Via Grotol Che problema c'hai? Niente Ce l'ho due che mi seguono Va bene Quello venne risalente A moltissimi anni fa Ok Qui se da ogni Si sarà fatto Delle seghe enormi Ehm Lastra tetra Che Ma Ma Vabbè Io sto assistendo Delle cose bellissime Questa lastra È composta Dai frammenti Della creazione Dell'universo Ok Ragazzi però A parte Gli scherzi Le cose Sapevo che c'era qualcosa Sapevo che c'era qualcosa Moneta muleto Buono Diciamo che Questo è l'unico Gioco pokemon Che davvero Tratta la lore E non la trama Tratta della lore Di pokemon La creazione Dei pokemon Dell'universo È molto importante Questo gioco A qui si esce No Andiamo a fare un altro giretto Perché almeno Voglio vedere Oh Prepariamo dei poffin Si Facciamo due cose in uno Non porta poffin Cosa? E dove lo prendiamo? Alla fan club Vero? Vabbè Qui continuano a succedere cose Che non dovrebbero esistere ormai Nei giochi Ma almeno qui non ci compenetriamo col terreno Vero ubisoft? Vengo qui con il mio epil ogni giorno Posso lasciarlo correre senza alcuna preoccupazione È vero I pokemon sono creature belle E paurose a volte Ma per lo più belle Allora io Torna pure quando vuoi Attenzione Signorina Che succede? Sembra che il pokemon Con cui ha appena fatto una passeggiata Voglio uscire dalla pokeball Devi essere un alternatore davvero speciale Per fare questo effetto Al tuo pokemon Se lo porti a spasso con te Anche fuori dal parco concordia Sarai di certo felice Ok Veneery Ok c'è già Vediamo un po' se c'è già Non c'è più Sono scandalizzato Non hanno accettato l'iscrizione dei miei pokemon Oh povero Poi aver chiarato se stil Vabbè Stilix potrebbe anche Scavare E dare una disossata al terreno E quindi Renderlo più fertile Piccolo appunto Avrei dovuto dire Dissodare il terreno Ma in questo caso Va bene anche disossare L'italiano non lo faccio io Controllate tre cani Prima di continuare Ok Questa qui è il fan club O alla casa del poffin Addirittura Bisognava andare C'era una casa del poffin qui? Mi scusasse Ciao come stai Sono presente Pokemon fan club Sono proprio io Ho 151 pokemon Quando vuoi coccurare Un po' di tuo pokemon Cosa fai? Io doi mangiare i poffin Perché lo faccio? Perché i poffin È un modo per esprimere affetto Ok Poffin pepato Poffin dolce Ho deciso di regalarti Questo porta poffin Quindi ora andiamo a fare Di poffin Almeno un paio Li faccio I tuo Vux Ti ritiene un grande amico Si direbbe che lo tratti Sempre bene Sì Tranne quando Non lo tratto bene L'ho sempre portato in giro Con me Vux Quindi alla fine Si è affezionato Per forza di cose A te ci arrivo Chiesetta Ci arrivo Ci arrivo Non ti preoccupare Signora sono tornato Per fare delle bacche Facciamo con Bacca arancia Che c'ho tante Ah posso farne anche di più Ok Allora facciamo bacca lampone E basta Sì 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 Che esce fuori Con rosso e blu Verde Sì Deve uscire Ma quello è giallo e blu Che fa verde Come Ok Non facciamolo Traboccare Sto giocando Con l'analogico Quindi È facile Con l'analogico Non si sta bruciando Vero Basta andare un pochino Più veloci Tutte quelle ore Passate a giocare A Dragon Ball Budokai Si stanno ripagando Da sole Vai Poffin Vai Eccolo Sta formando Non si brucia niente Ma che si brucia Che non si brucia niente È un uoce di fuori Perché si brucia Se non è bruciato È bruciato È zero volte È zero volte Tra bocca Tutto zero Tempo di cottura Un minuto Poffin Agro Di livello 18 Per 0,2 Ah 0,2 Perché È Le bacche Che ci ho messo Non mi ricordo Come funzionavano I poffin Torna pure Quando hai voglia di cucinare Eh ci tornerò Ma Se si potesse fare Da qualche altra parte Invece che qui dentro Banaria è l'unico Che porterò dietro Fino a che non si evolverà In Lopanni Poi vediamo Entriamo nella chiesa Religioso silenzio Nella chiesa Quando le persone Pokemon si tengono Per mano Sono tutti felici È normale In fondo Siamo tutti parti Di un unico Grande mondo Eh lo vedremo a Canalipoli Se quello che dice È vero No Chi sa sa E chi non sa Non lo sa Mi scus Signora Non posso parlare Con la signora Qui Ah sì Ecco da dietro È normale Che le persone Si sentano sole La solitudine Ci rende più Compassionevoli Verso il prossimo E quando siamo Più gentili Gli uni con gli altri Possiamo guardare A futuro Con ottimismo Inoltre Non c'è miglior medicina Alla solitudine E alla tristezza Della vita E il tempo Come sai Tu riesci tutto Ma io Se potessi Starmene Una settimana Da solo Sarai contento Alcune parole Sono sempre Sulla bocca Di tutti Ma ciò Nonostante Sono impossibili Da spiegare Sono le parole Gioia E amore Si può spiegare Gioia E amore Pokemon Esseri umani Siamo tutti diversi È naturale Alcuni pokemon Potrebbero sembrarti forti Altri più deboli Ma non fermarti Alla prima impressione C'è sempre qualcosa Di buono In ogni pokemon Come in ognuno di noi Trova quel qualcosa E vedrai Potresti rimanere Piacevolmente sorpreso L'arte di creare le cose Affatica lo spirito Di ognuno di noi Quando lo spirito È alleviato Il desiderio di fare Qualcosa ritorna È davvero Un ciclo misterioso C'è mio padre Ci sono io Ci sono i miei figli Questa è la mia vita E poi c'è la natura Ci sono i pokemon Ci sono io Questo è il mondo Sì Questo murales Cosa rappresenta? Rappresenta il monte corona E quella luce luminosa Rappresenta la gloria Del signore Che sia ispirato Al monte Sinai Io non ho mai Mai Neanche una volta Letto A cosa potrebbe essere Ispirato il monte corona Mi viene in mente Il monte Sinai Perché è dove Mosè Scrisse Delle tavole Della legge Un altro monte Il sermone Il sermone Della montagna Che fece Gesù Potrebbe anche essere Perché in genere Gesù viene visto Anche come Dio La Trinità Che poi la Trinità Vai a leggere Nella Bibbia Se la smontano da soli Cattolicesimo Bravi Comunque Ecco la casa del poffin Esiste La casa del poffin Abbiamo già fatti i poffin Entro giusto tanto Per assaporare al meglio Va bene Questa qui vuole cucinare Signorina Briccona Poi andiamo a vendere Andiamo a spacciare i poffin Vero? Mettiamoci a cucinare Mischia delicatamente l'impasto Quanto è ancora liquido E cerca di non farlo fuoriuscire Sì Lo so Grazie Va bene Il buon cibo Dalle persone poche Con felicità e energie Ad alcuni troppi Hai delle bacche Per cucinare le poffin Delizie se le lingue Sanno bacche rare Eh sì Però C'è la bacche enigma Che Non è consigliata però Ora L'ultima cosa da fare Nell'episodio di oggi È venire qui Anche perché Se non si viene qui Non si può parlare con Fanny Oh Escusi Ci sono mortificata Stai a partecipare Alle super gare show? Buon divertimento Lo Sfida il caso Che Fanny La capopalestra Di Coripoli Sia tra esperta Anche delle super gare show E in effetti Lei è nelle gare master E tu ti chiederai Ma come fascia Saperlo? Beh Fanny Sè mua Tra l'altro Vestita come un Driftblim Di classe Potresti sfidarmi Ma non è il momento Devi diventare Molto più forte Solo loro potrai Ma veramente Potrei anche Sfidarla ora Se io vado qui La posso sfidare Eh vedi Mi fa vedere Ah ma Non c'è l'ascensore Cosa? Ok Tiamo che sia impossibile La risposta è che Non è qui Torno un'altra volta Ma come? Infatti prima c'è Marzia Ah ah Lei è la terza La quarta è Fanny Oh ecco il mio mito Ah ciao Link Mamma? A parte un pantofole Aspetta No davvero Olga è tua madre? Quindi potresti essere Una star Deve Super gare show? No Oh questo non lo so Non ho mai parlato Delle super gare show con Link Ma mi sorprende Che voi due vi conosciate Ah sì è vero Devo ringraziarti per prima Ecco prendi questo bollo Una banconotta da dieci Andava anche bene Dieci perché è simbolico Se no anche cinque Per dire Metti quel bollo Sulla capsula del tuo Pokemon Prima di una gara Le darà un tocco di eleganza E raffinatezza in più Io sono un giudice delle gare Se vuoi fare un'esperienza nuova Perché non partecipi? Se no ti senti all'altezza Ti offriamo anche la possibilità Di esercitarti prima Ok Olga Ci vediamo Mi annoiavo E quindi sono venuto a Cuaripoli Per una vacanza Anche io sono sorpresa di averti Qui tesoro mio Ma vuoi davvero partecipare Alle super gare show? Non ho visto così spero Se i doi Pokemon sono tutti aggliendati Tu non puoi essere da meno Metti questo per essere più elegante Secondo me nostra madre Ci spia con un tracking device Perché casualmente Proprio quando noi arriviamo a Cuaripoli Lei sta facendo una vacanza Con quali soldi poi? Dov'è il nostro padre? Cosa ci nasconde? Eh mamma? Tra l'altro si chiama Joanne Giusto a titolo informativo Abbiamo ricevuto uno smoking Sono sicura che ti starà bene Del resto l'ho scelto io E beh figuriamoci Quali vestito migliore Ci possono scegliere le nostre mamme? Ti faranno scoprire il fascino Il tuo Pokemon Da un'altra prospettiva Ora devo andare Ciao Eh vedi un po' che devi far Partecipare alle super gare show? Vedo che anche porta Poffin Perfetto Allora posso darti questo meraviglioso Poffin in regalo Poffin equilibrato Ah fa aumentare tutto quanto Bravo E' il Mario dei Poffin Dai questo Poffin Ha un Pokemon che vuoi far partecipare allo show Ah ti lo consiglio Prova a partecipare allo show Sì Quello che sto cercando di fare Ah posso fare delle prove? Quali prove? Noi si va direttamente con quella ufficiale Arena delle virtù Se vuoi posso aiutarti a scriverti alle super gare show Vuoi scrivere un Pokemon? Partecipa Ah veramente non ho visto che abilità hanno i miei Pokemon Dunque le mosse fuoco a volte sono quelle di Grinta? Mi ricordo arancione No bellezza le fuoco alcune Ok Sì ma Aspetta ma quindi qui non contava Il tipo della mossa Posso farla a caso? Ah Ho capito Eh lui mi pare quello che con Maledi Zia Non è foglie lama Il fervore non diminuirà per 5 secondi Eh bisogna essere attenti a quello che si utilizza Vado con Mint Dai Facciamo partecipare Mint Ah posso scegliere una mossa sola? Ok ho capito Qui sono un po' diverse quindi L'indicatore dei pari si riempirà più velocemente Le note mancate non verranno considerate un errore per 15 secondi Gelo pugno A gelo pugno Ah Non è che ancora non l'ho Non l'ho visto in nulla Non l'ho neanche usata in battaglia Non ho neanche assegnato dei bolli alla capsula Eh vabbè Scusate ma È bellissimo questo Yeah Tutti quanti saltati Io sono l'unico vestito come un damerino Damerino delle gare Ecco la coppia di concorrenti numero 2 Renata e striscia Io senza bolli Senza niente Tutti ce l'hanno io no E a me neanche un cuore Ma ve pozzino Ok L'ho presa allora Con A Con A si preme Ok Buono Ho capito Queste poi le sbagliai tutte quante sul DS La prima volta che feci la gara Però sto andando alla grande Ebbè Da su Facciamo aumentare il fervore del pubblico Dai Yeah Va a tempo Ma non sembra Non sembra perché non è La musica che ascolto in genere io Con la musica che ascolto io È talmente veloce Che questa mi pare lenta E mi sembra che non vada a tempo Invece va a tempo Quindi Io Beh ovvio Scusami Mossa Ok mossa Niente Personalità perché ok Non avevo nessun poffine Nessun bollo Quindi ho vinto La tua è stata la performance migliore Complimenti Con bollo classe A Ho vinto Il prossimo luogo da visitare sarebbe Flemminia Se non erro Ma guarda Ma guarda quel pescatore Lì Arrabbiatissimo Tadà Mi ha fatto aspettare Link Vediamo Prendi in giro Prendi in giro Ti sembra uno che voglia scherzare Io La faccia di uno che vuole scherzare Barry 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 Starry E Buizel Volante Acqua Contro Un Pokémon Elettro Capiamo Ah si Ti do anche un assaggio della mia potenza E Morso Ma Ma che veloce Weasel Ok che il Luxio non è un esempio lampante di velocità Però Weasel Davvero La dondola Dondola d'acqua Anasi al 27 Allora Vux al 30 Si evolve Per il resto No sto tranquillo Grothal Cambiamo Anasi Sta al 27 Cavolo Ora che arriviamo a Rupepoli Già sta al 30 C'è un bel po' di strada Ancora da fare E manda Grothal Vabbè Ruota a fuoco Che l'ha imparata da poco Quindi Good game Proprio Ok Bene Bene E' buono Fammi fogli e ramo Fogli e ramo Maledizione Mentre attacco e difesa Cala la velocità Ma a noi ce ne sbattiamo i cosiddetti Perché Siamo Davvero davvero forti Con una coda che ci esce Da una parte sbagliata Dovrebbe essere più alta la coda A dire il vero Ma si sa Pokémon non è ispirato I Pokémon non sono animali Veri e propri Quindi può uscire anche da altre parti Occhio però Cavoli quanti punti Mamma mia Ponita Eh beh scusami Ho Acti Anche se Vaneri Facciamo lottare Vaneri Dai Ci vuole Vai Menta Vai Menta Menta piperita Ponita Allora Facciamo Panita Potrebbe fare Bracere Nitrocarica Potrebbe fare Ok fascino Diviniamo un bel po' l'attacco Diviniamo un alto Quindi meno due Nitrocarica Perfetto Predicta Ah Brutto colpo Ok quindi il doppio Il doppio e un pizzico in più Ho visto il brutto colpo Io pensavo solo il doppio e basta Invece no Il doppio e un pizzico E se hai cecchino Tu raccomando Ok doppio calcio Leva un bel po' Un bel po' Ottimo Barry Non dici più nulla? Ma non è riga più veloce Con nitrocarica? Ok Ma vabbè You do you Cosa mi hai messo alle strette? Ma io non mollo You do you Significa tu fai te Quindi Tu fai tu Tu andai Vieni tu cosa fare? Ok Livello 28 Buono Oh oh La fetta sarebbe buona Per certi versi Per passare Le modifiche alle statistiche Però Lopanni Come la voglio usare Lopanni Io sono un allenatore Un po' vecchio stampo Non mi piace Modificarmi le statistiche Per forza Quindi Evito di fare Mosse che danno Non che danno status Ma che danno modifiche Alle statistiche mie O avversarie Quindi Evito di insegnare mosse Che possono passarle Ma 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 che succede? Mi stai forse dicendo Che ho perso? Sì Ah Di nuovo Ho mandato capo alla mia squadra Il mio sogno di diventare Dall'allenatore numero uno Si allontana sempre più Ma che dico Devo solo diventare più forte E continuare a vincere Ne un giorno È quello che dico io Con il mio canale youtube Ma non cresce mai Ma certo La mia prossima sfida Sarà la palestra di Lupepoli Ci si vede Link La prossima volta Rimarrai spadordito Da quanto sarò diventato forte Ce lo dicono anche La prossima sfida È a Lupepoli Quindi se non sapevamo Dove andare Ora c'è a Lupepoli Allora L'uovo Si sta schiudendo Piano piano Però si schiude Allora Terminiamo un attimino Con un po' di percorso Più avanti Adicenatore di petra di roccata Chissà che cosa c'è Sono molto curiosa Ve lo voglio spiegare Perché all'inizio Non capivo bene Neanche io E parlando Insomma Su telegram Uno mi fa Era una chat di gruppo Fa Ma come si fa Sbloccare spiritomb Perché io ho incontrato 32 persone Nei sotterranei Sì Ci sono alcuni NPC Che puoi trovare Anche giocando Da solo Non c'è bisogno Di essere Online O comunque sia Con altre persone Nella stanza Puoi giocare Anche da solo Trovare questi NPC da solo E Dopo che ne incontri Ben 32 Tutti diversi Quindi Quello che vende Le bilie Non conta Quello che ti fa Quello che ti compra Le bilie Per darti strumenti Non conta Anche lo trovi In punti diversi Non conta proprio Quindi Con 32 NPC diversi Puoi Prendere Spiritomb Dopo Facilissimo Però dobbiamo Prendere anche La roccianima Che ci dà Qualcuno Bisogna vedere Chi però Chi ce la dà Ah E questo è il bello Allora Ho detto che avrei fatto La palestra Nel prossimo Episodio In realtà No Mi ricordavo male Perché su platino Puoi affrontare Fanny Appena arrivato A Cuaripoli Invece Diamante e perle È diverso Quindi mi sono Totalmente confuso La palestra La faremo Fra due episodi Che sarà quella Di Rupepoli Ok Mentre Nel prossimo episodio Credo Domani Perché Mi sa che ne ho caricati Due L'altro Ieri No questo è il secondo Di oggi Non lo so Comunque sia Arriveremo a È un allenamento Un allenamento Un po' strano Sto facendo Un allenamento Speciale Sì Nel mio Bibarel Hai partecipato Alla super Gara Prima di me Ok Tre bolli Lampo Si congratula Grazie Nessuno l'aveva mai Fatta per me Ti ringrazio Ti voglio bene Lì c'è la baccamela 100% Quella è la baccamela La riconoscerei Ounque La mia bacca preferita Ah Ci sono un po' Di trainer Sto qui Ah Gli amici buoni Sono davvero buoni Non lo pensi anche tu Amo buono Questo mi serve Per pescare Ok No Non serve Grazie Ok Ok Allora Questo qui Non so se possiamo sfidarlo Ah La mattina Eh ma sono le 10 Dai Ok Questa qui È un membro del fan club E mi dà un regalo di benvenuto Boldi Floreali E Ma c'era su diamante perra lei Non mi ricordo Baccamela Ovviamente la riconoscerei Ovunque La mia bacca preferita Grande Quindi non so perché Però le baccamela È un po' come Charizard Mi piace il design Mi piace quella Scelgo quella E basta Non me ne servono altre Lotta in doppio Mint Io ti voglio tantissimo Bene Quindi vieni qui Ne lottiamo sempre insieme Per questo siamo forti Vedi quello fa jogging sul posto Poi jogging Quella è la marcia Ti conceremo per le feste Eh in effetti Natale Manca un mese oramai Vigilia No Neanche Manca un po' di più Un mese Ok Vux e Mint Nice Tuoroshock per Manjr E gelopugno per Bosly Effetto normale Gelopugno Non è roccia Con gelato Paralizzato Che sinergia Che sinergia Ma cos'è questa sinergia Ragazzi Ma cosa abbiamo fatto Cosa abbiamo fatto A doppio calcio Potevo andare No Andre Link No Non va a doppio calcio Vuole perdere tempo E doppio calcio Per terminarlo A parte mi sa che Ha più veloce il Mint Sì Cosa sei un super genio Di Pokémon Quasi Quasi no Guarda Guarda Sono un Pokémon Ditemi che non è una bimba Ma un bimbo Secondo me lo fanno apposta In spade e scudo Erano maschi Quelli di Pikachu E ivi le femmine A parte qui Mi pare che è uguale Bimbi e bimbe Cioè E Pikachu e basta Invece spade e scudo Sono le ivi Gli ivi Le bambine E Pikachu e maschietti Bimbi Tra l'altro sarebbe ora Che implementassero i versi Parlati Per tutti i Pokémon Ok che Masuda Ha inventato Un apparecchio Per fare i versi Dei Pokémon E per la musica Di Pokémon L'ha creato lui Non so se lo sapete Però Sono passati 25 anni Date un verso A tutti i Pokémon No perché Pikachu è la mascotte Figa E bisogna per forza Dare un verso Solo a Pikachu Siamo quasi a Flemminia Direi quindi Di concludere L'episodio Tanto nel prossimo Ci sarà Modo di fare Tante cose Ok ci vorrà Un po' di tempo Per schiudersi Qui sappiamo Tutti quanti Cosa esce Allora in ogni modo Io vi ringrazio Per aver seguito Il video In descrizione Trovate sempre Il link Per Telegram E Instagram Dove pubblico Gli aggiornamenti E se ancora Non siete iscritti Al canale Fateci un pensiero E noi Ci vediamo Ovviamente Al prossimo video Bye bye